ciao e benvenuta oggi prepariamo insieme la crema diplomatica anche chiamata chantilly all'italiana e la prepareremo nella sua versione classica e con una piccola variazione ora iscriviti al canale e partiamo subito con la videoricetta partiamo dalla versione classica versando in una ciotola 4 tuorli 120 grammi di zucchero semolato e mischiamo bene con la frusta a mano incorporiamo 25 grammi di farina 00 e 25 grammi di amido di mais versiamo un goccio di latte e mischiamo bene e quindi versiamo il restante latte in un pentolino per un totale di 500 ml incidiamo una bacca di vaniglia estraiamo la polpa e la mescoliamo nel latte in alternativa possiamo aromatizzare con la scorza di un limone biologico portiamo a ebollizione il latte su fiamma media se abbiamo aggiunto la scorza di limone la rimuoviamo subito dopo aver spento la fiamma il latte su fiamma media se abbiamo aggiunto il latte su fiamma ma ebili 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 quindi versiamo il composto con i tuorli nel latte riaccendiamo il fuoco a fiamma bassa e riportiamo a ebollizione se usiamo le dosi di farina e amido indicate lasciamo bollire la crema per 2 minuti mescolando energicamente se invece vogliamo usare solo amidi e quindi usare un totale di 50 grammi di amido di mais possiamo togliere la crema dal fuoco appena inizia a bollire in entrambe i casi versiamo la crema in un contenitore copriamo bene con pellicola trasparente e lasciamo raffreddare per poi conservare in frigorifero a 4 gradi centigradi quindi montiamo a medio alta velocità 250 millilitri di panna fresca se volete sapere come montare la panna senza commettere errori alla fine del video troverete il link al video con tutte le informazioni ora non rimane che mischiare la panna montata nella crema pasticcera incorporandola in due porzioni con lenti movimenti dal basso verso l'alto e facendo attenzione che la crema e la panna abbiano la stessa temperatura la nostra diplomatica sarà ottima per farcire torte e i nostri dolci preferiti come alternativa se vogliamo una chantilly all'italiana con maggiore densità possiamo aggiungere a 200 millilitri di panna 120 grammi di mascarpone e montare tutto ad alta velocità aggiungendo 3 cucchiai di zucchero semolato quindi incorporiamo la panna come visto in precedenza e usiamo la crema per farcire e decorare torte se questa ricetta ti è piaciuta condividila con gli amici clicca mi piace iscriviti al canale e clicca sulla campanella per ricevere le notifiche sui nostri prossimi video inserisci un commento se vuoi lasciare un saluto fare domande o esprimere la tua opinione grazie e arrivederci iscriviti al canale grazie